Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Questo video è un po' tragico di tutti gli altri Ho visto la vita di un procione dove l'improvvisore dei umani è a catturare i miei simili E quindi il mio obiettivo era di scappare e salvare tutti i miei amici Ci sarò riuscito? Beh, io non vi sporo altro Guardate il video finito alla fine Detto questo, buona visione! Ragazzi, che succede? Ma? Sono un procione! Che figata! Che devo fare? Obiettivo completo? Obiettivo completo? Aspetta, ma? Con i obiettivi sto completando? Momento! Che succede? Vediamo The circle in the gate Wait, aspetta un attimo Questo gioco dovrebbe essere pure italiano Ma perché mezzo italiano e mezzo inglese? Ok, aspetta Vecchio Joe, dimmi Buongiorno Oggi è un giorno speciale E ora che tu diventi il mio successore Prendi il mio zaino E vedi, se Nutter's ha bisogno del mio aiuto Allora Cosa devo fare? Aspetta Ma è uno zaino militare Che devo fare? Ma poi Ma questo è il quartiere generale dei procioni Salve sergente procione Come va? Ah, là c'è un cadetto procione Allora Che devo fare? Ma quanto sono lento? Posso correre? No, non posso correre Va bene Però posso saltare Ok Che devo fare? Salve signor Ah, ma è uno scogliattolo Salve signor scogliattolo Capitano Sergente Mi dica Oh, ciao Vedo che sei al comando oggi Ho un compito per te Ma prima Prendi un fungo del ceppo E mangialo Un fungo del ceppo E mangialo Perché devo mangiarlo? Premi e premai Ah, ok Ecco Ok E ora? Ah, ok Clicco uno E ma Ok Ma che devo fare? Signor capitano Mi dica Bel lavoro Ora sei pieno E puoi aiutarmi A raccogliere del cibo Per i nostri amici Va bene Allora, di tutto Dove devo andare? Oh, posso correre finalmente Let's go Allora, quindi devo prendere Dei funghi Va bene Mi chiedo Perché ci sta questo Devo prendere dei funghi E questa è la cosa che mi chiedo Quanto cosa devo fare? Ok, prendi Prendi, prendi Ok Allora, teoricamente In questo gioco Io posso pure rapinare Sì Che succede? Eh Va bene Ciao, sto aiutando con la raccolta di cibo di oggi Yes Puoi usare la pietra per battere le mele? Ah no, battere le mele Sono stupido io Allora Vediamo Faccio subito Ah, se devo usare la pietra però Se non la prendo È un problema Ok, prendiamo la pietra Ok Andiamo Come funziona la pietra? Ah Posso lanciare le cose Ok Penso deve colpire le mele Non quello Vediamo Ok Allora, buono Cioè, questo crocione però vorrei dire È troppo intelligente Più di me E questo non mi piace One eternity Later Ah, finalmente Non ci faccio più Adesso devo parlare con lui Che devo fare? Ok Meno male che sei venuto Ho delle notizie terribili da segnalare Cosa? Che succede? Dimmi Skyler Sta succedendo qualcosa di strano Ai maricini della foresta In che senso? Wait Penso che tu e Jack Dovreste dare un'occhiata Ok Jack Jack Andiamo Andiamo Veloci 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 Jack Emergenza Attivare l'allarme Nino Nino Allarme Allarme Jack Jack Non stare su quel tronco Jack Dobbiamo andare Oh ti è stato affidato lo zaino Oh Skyler diceva di aver visto qualcosa di strano Ai maricini della foresta Sì bro Non ci abbiamo tempo Andiamo Dai 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 Sì L'avevo già detto bro Dobbiamo andare Veloci 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 Corri 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 Non so cosa può succedere Non so cosa sta succedendo Perché ho paura Wait Rega sta iniziando già pure a piovere No no Questo non è un buon segno Questo non è un buon segno proprio Wait Jack Tu stami vicino perché ho paura Per favore Va bene Jack Quanto qua non piove forte Mamma mia Vogliamo abbattere la foresta No dobbiamo impedirlo Dobbiamo bloccare Non distruggere la foresta Jack Sei pronto Jack Jack Basta parlare Guarda Stanno arrivando qualcuno L'abbiamo già visto Giovanni ci sono stili Cerca di stagli lontano Per evitare guai Ok però Non è questo un buon segno Torno al prato Il primo possibile No è vero Dovevi essere tutti quanti No 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 Questo non è un buon segno Questo non è bello Questo non è bello Dai Corri Corri Non sei troppo lento Eccomi 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 ragazzi No Che sta succedendo No No Mi stanno catturando No No lo squattolo No 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 Ma Ha trapassato la roccia Rega Ma ha trapassato la roccia Ok Devo andare avanti Jack Sei pronto? Beh sembra che in pochi secondi Abbiamo perso la nostra casa Va bene Ascolta Distrarrò gli umani Così potrei liberarli Capito Sì ho capito Non riesco a leggere Aiuto Perché sono in una situazione E veramente greve Perché devono salvarli Andiamo 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 Non stai distraendo Devo distrarli io Non ho capito No 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 Prendi il sasso Apri 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 Vai correte 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 fratelli Correte fratelli Pure tu vai 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 Correte correte fratelli Via 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 No 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 L'anziano No 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 l'anziano No L'anziano no 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 che succede Perché mi sono addormentato io Ma mi sa forse Non dovevo essere preso io Cioè doveva essere Cioè doveva essere preso l'anziano Voleva essere preso io Mi sa Comunque che succede Dove sono Mi sembra di star sognando Ma qui è un zaino Ma Che sta succedendo Qui è delle pietre Wait Che sta succedendo Aiuto Non sto capendo Cioè guardia No 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 Lancia ok Vai 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 Legga pure due Vai Ok perfetto Due guardie fatte fuori Sperti per gli altri Devo fermarlo No 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 Vai 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 Preso Dai Ok che sto È un sogno Sono stato catturato No 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 Sto ancora sognando No 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 Quindi ho perso Ho perso i miei amici La mia famiglia Il mio nonno Che mi ha dato l'eredità Posso entrare in una scuola Ok Ok posso entrare in una scuola Quindi posso andare Sneaky con le scatole Ok E quali signore Tutto a posto Signore Tutto a posto Signore Ok Ok va bene Arrivederci Ok Mi sto avvicinando Io ora faccio Vai 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 Ok Non so andare di qua Vai 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 Ora 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 Dentro 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 Ok C'è questo signore Che sta facendo Ok mi sto adentrando Il furgone Ok ho capito Ho capito Un momento Vai 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 Dovevo entrare in gabbia Come devo entrare in gabbia Forse sto facendo un sogno Dove è quello che sta succedendo Esatto Dove mi stanno portando No fra No Cioè Ho perso tutto Non ho più niente È come Sono in galera C'è uno skate X Vabbè Scusate ragazzi Ma in che senso Posso usare uno skateboard Ma è bellissimo Sto gioco Cioè Comunque ok Dove sto andando Obiettivo Comunque raggiungi il checkpoint Comunque bravo Ho capito che con X Sono tolgo lo skateboard Cioè Dovrei aver Dovrei saperlo Comunque aspetta Aspetta Trickshot Trickshot Sì Mamma Mamma Mi sono accappottato Ok aspetta Vai Ok Let's go Dove raggiungi il checkpoint Ok vabbè Ho capito Dove raggiungi il checkpoint Ok siamo su un ponte No rega Che mi stai dicendo No cioè rega No veramente Mi stai dicendo veramente questa cosa No wait Aspetta Aspetta No fammi sali Sali sopra Non ci credo Come funziona No fra No Che figata No rega Io questo gioco l'adoro È bellissimo È arte sto gioco Vai 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 Ci sono più veloci delle macchine No Mi stavo per accappottare Aiuto Ok No ce la puoi fare Vai 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 Che stavo Che Uè Mi stavo caratterizzando No Che sta succedendo Mi stavo portando dentro Cos'è questo posto No No Mi stavo mettendo in gabbia Quindi Ecco il posto No rega Uè Spero che stavo anche in veste Tra poco aspetta Andiamo a correre Ok Cosa c'è qua Una chiave inglese Ok No rega che figata Ok posso fare il caos Posso fare il caos Tutto quello che voglio Comunque adesso devo entrare nel punto In cui io sono rimasto bloccato Versa Ah posso distrarre Attivando la tv E tutte le altre cose Non penso Di distrarre questo Anche io l'ho fatto Non so come Va bene Dove devo andare Ah non devo legarlo Sto legando le persone Nel sonno Cittadino Ah non c'ho la corda Prendi una corda Ma non c'ho la corda Prego come faccio Prego Eccola Aspetta Ok Vai 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 Fatto Ok Andiamo 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 Ok apriamo la porta No cosa serve Aha Non ho capito cosa serve Però Ok ho preso un oggetto Ah sto facendo Una corda che è legata Ma come si fa Ok Ah Così lo attiro E cade per terra Ma che figa No raga che figa Sono un militare In poche parole Fa cadere il vaso Ah ok Vieni bro Aha Vai vai Ok Eccomi Ok così Facile potevo uscire Ben fatto Si è uscito dalla gabbia Ah il nonno Nonno tutto a posto Vieni quello zaino Ed esci da qui No come No ma io voglio Esci pure te Mi dispiace Quindi devo scappare Allora Devo scassinare Ok Andiamo 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 Ok Quando c'era questa guardia Scusate Non me la ricordavo Non l'ho vista Ok quindi Se provo ad uscire Posso Ok Ma sono le telecamere Ok Staccare la corrente E posso nascondermi nei vasi Ok Vai 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 C'è qualcuno C'è qualcuno Posso prendere quell'estintore No non posso Vediamo Ok mi sono nascosto Eh Ok Aspettiamo che esce Vai Ora Vai 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 Ok sono lo sgabuzzino Tipo Ok questi aggiunti possono servirmi Vediamo dai Vai Disattiva la corrente Perfetto 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 Mamma mia signori Mamma mia La scatola La scatola C'è una guardia di giù Dentro Ok Ma sono vicino all'uscita Perché là ci sono altri oggetti Vediamo C'è un bel po' di oggetti Vai dobbiamo uscire da qua Oppure no Posso pure uscire tranquillamente Big boss Ok Mi sa forse non devo scappare Devo trovare la stanza del boss C'è una guardia No 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 Non c'ho sassi Per farli svenire Vediamo Cosa potrei fare Posso lanciare la ciambella No non posso Mmm Posso attraverso le telecamere spente Questo l'ho fatto Ok Ok Controllo la sala Mangia qualcosa Già fatto Nel caso mai rimangio Ok Ok bro ho mangiato qualcosa Quanto devo mangiare Bro Ho mangiato il massimo Aiuto Io penso di aver mangiato Bro Ti chiedo un po' troppo Ma posso bere No dimmi Posso pure bere No invece Questo posso lanciarlo in testa Perfetto Perfetto signori Allora Quindi Fammi prendere queste baguette No non posso prendere Quante ciambella Oh oh Cimo infinito Posso mai mangiare un altro poco Prendo pure quest'altro Regà sta volando Che sta succedendo Questa ciambella Aiuto Va bene Allora Devo lanciarlo in testa alla guardia Pure no 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 Oh oh Mi stava per vedere Ok Ah quello laggiù Quello laggiù devo farvi svenire Vai 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 Corde penso non ci sono Quindi non possiamo Ok Vai Ok fatto Ok posso legarlo Vediamo cosa c'è Delle chiavi Non posso prenderele Ok Un'altra tazza No aspetta l'inventare è pieno Fai buttare qualcosa Che è un po' troppo di cose Aspetta Vai prendi sta tazza Che servono Le tazze sono fortissime Vediamo aspetta Niente niente Oh No Devi stivare che non posso usare Va bene Non c'è quasi niente Quindi posso andarmi tranquillamente Devo legare tutte le guardie Più guardie possibili Devo legare Non avrei lasciare Finché non avrei ottenuto Le informazioni necessarie Ok Ok lanciamo Vediamo se riesco Vai Ok Legalo Legalo No 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 regalo Non posso legare Non posso legarlo Allora Allora Mi sposto subito Bisogna una chiave Ma non posso Oh Oh No 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 Rega No 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 Rega Devo scappare No 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 Rega Non è buono Non è buono Non è buono Allora Non è buono Non è buono Ok ho preso un cuscino Cosa potrebbe servire Un cuscino Ok sembra per lanciarlo Poi non ho capito La missione di Cosa Mangiare Ma l'ho mangiato io Sono pieno Cioè Aiuto Ok signori Ho risolto Si era buggato Comunque Devo continuare Adesso l'ispezione Ai corridoi Ok Fammi vedere In queste tazze Che sono utilissime Le tazze Aspetta Ok Devo mettere un'altra Mai mai dire Mai mai Tantissime tazze Dobbiamo avere Tante tazze Le tazze sono belle Ok non posso entrare E ho bisogno della chiave Che era quello Che avevo visto Prima Ok Ah Let's go ski Prendi la chiave Prendi una tazza Prendi una ciambella E scappa Woo Di la porta Così si ricorda Era più niente Ok Dove entrare nella stanza Del boss Vediamo Ok Libro Ok Dove indagare Trovi informazioni Sulla tua famiglia Rompi la sede del capo Vai 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 Si 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 rompila Rompila Bravo Ti adoro Trovo l'uscita Del canile Sono dei passi Nei corridoi Ok È il capo Oh Si sta per sedere Oh Let's go ski Ok Il monito è scappare Il monito è scappare Vai 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 Ok Vediamo dove sta l'uscita Ok Voglio trovare l'uscita Sulla scrivania Mi dispiace signora 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 Mi dispiace Ok Dorma signora Sonni d'oro Però Devo salire qua sopra Aiuto Ok Oh no È qui dove si è spiegato Il capo del rifugio Dove essere che dove sta andando Dove sta andando Non devo vedere dove sta andando Non so più capene Aiuto Ok Vai andiamo Andiamo Vai 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 Dove salire sopra Veloce 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 Corri 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 Ok Sto andando alla casa del capo Perfetto Vai alla casa del capo Ok Leskowski Lui non sa Che io sono dietro di lui Comunque già si è trovata La divisa Cioè Sonic Aiuto Vediamo Eeeh Quella è la casa del capo È una villa Ma stiamo scherzando Ma questo qua è un miliardario Fra Ma mi sembra un po' Too much Scusami Beh Sapete cosa vi dico io A parte questa mega villona Io Quasi quasi vi direi Lo faccio in un altro episodio Scrivete nei commenti Se vi piace Per una serie Questo è tutto Leskowski Watson O Ti Vi 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 Grazie a tutti.